Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Cristian Ciuffa, trader professionista da 15 anni, vi dà il benvenuto a questo video che parla oggi di visione ovviamente dei mercati. In linea generale parleremo di Forex, parleremo di un aspetto particolare di questa settimana che è finita e quella che sta iniziando. Cominciamo subito a vedere il calendario economico. Ovviamente questo è il calendario economico che potete andare a leggere comunque sempre per quanto riguarda appunto gli appuntamenti principali nella settimana di trading. Ovviamente questa fa parte della settimana ovviamente dal 29 al 5 che è la settimana in cui noi stiamo attendendo appunto come andrà sia dal punto di vista vedete già da lunedì come andrà appunto l'andamento macroeconomico del nostro trading quindi del nostro trading e dei movimenti che ha quindi il mercato finanziario. Ovviamente iniziamo subito con Kearney della Bank of England che farà il discorso alle 10.10 di lunedì quindi da non sottovalutare perché è un discorso molto importante proprio perché riguarda la salute della banca inglese. Ovviamente a parte gli indici degli acquisti sul manifatturiero della Cina salterei direttamente a vedere una variazione della disoccupazione invece della Germania. La Germania che come se vi ricordate vi dicevo che era e questa è veramente una cosa da non sottovalutare perché questo determinerà l'andamento di tanti sia strumenti tra cui il DAX, tra cui euro-dollaro eccetera quindi da non sottovalutare questo aspetto della Germania. Questo è da considerare insieme a quello ovviamente io vi dicevo anche il CAD, il PIL del canadese molto importante per quanto riguarda anche le materie prime specialmente il grano ma quello che è da mettere in contrapposizione anche visto che il primo maggio è festa un po' dappertutto però abbiamo che alle 10.30 invece in Inghilterra abbiamo il settore dei direttori degli acquisti del manifatturiero questa è molto importante per la salute dell'economia britannica quindi da mettere insieme appunto poi con ovviamente l'occupazione non agricola ovviamente ragazzi qui è da stendere un pochettino, anzi distendere più che altro vedete proprio nella giornata di mercoledì questa variazione perché la variazione dell'occupazione non agricola perché insita in questa settimana a parte appunto le scorte di greggio che abbiamo nella giornata di mercoledì quindi nonostante appunto sia festa per diciamo qui in Italia e su varie diciamo nazioni ecco d'Europa ma più che altro si va a sommare con due eventi importantissimi guardate ragazzi la decisione sul tasso di interesse della sterlina veramente importantissima questa che è da leggere insieme poi ovviamente all'inflazione che la Banca of England nel momento in cui darà questa situazione appunto della ecco qui vi metto a venerdì poi quindi di giovedì veramente questa azione del tasso di interesse della sterlina e poi quello che noi aspettiamo da ogni mese le buste paghe del settore non agricolo ricordatevi ragazzi money management alla mano, attenzione al capitale, attenzione alle strategie sulle news buste paghe del non agricolo venerdì alle 14.30 come ogni mese avremo veramente una forte attesa perché ci aspettiamo veramente un buon esito riguardo le buste paghe del settore appunto negli states questo è gli appuntamenti più importanti della settimana di trading andiamo subito a vedere quello che invece è quello che sta facendo ora il CAD cioè il canadese contro il franco svizzero che sta vedete è in movimento per andare a prendere questi 0.72.500 era quello che io mi aspettavo già dalla scorsa settimana qualora fossero arrivati i massimi io mi sarei aspettato questo bet pattern ad andare a prendere poi il 0.72.500 visto proprio sul settimanale un movimento abbastanza forte di ristringimento di compressione del prezzo verso che mirava verso il basso guardate anche la divergenza poi di prezzo che c'è in questo momento sui massimi quindi staremo ad aspettare appunto cosa farà nelle prossime ore il canadese volevo farvi vedere anche la situazione del canadese appunto anche con il dollaro statunitense che vedete ci aspettavamo questo 78% ancora per me è ancora ovviamente valido questo Gartley pattern siamo andati probabilmente aspetteremo e questo è anche un altro aspetto di questo pattern io mi aspetto ancora un rialzo per andare a prendere questo 78% qui sopra per proseguire poi comunque ancora ribasso ma quello che invece però mi ferma mi frena un pochettino è quello come si sta muovendo in compressione il prezzo proprio su questa trend line di lungo periodo che sto attendendo veramente perché è anche parte di questo canale ribassista che si sta appunto prodigando da qualche tempo a questa parte vedete come il prezzo sta proprio su questo canale adesso però guardate la cosa che io vedo è la divergenza di prezzo sul lungo periodo ovviamente che si sta formando ma non solo abbiamo anche però questa compressione del prezzo che ora vedete sta non sta più proseguendo ad andare appunto sul proseguire sul canale in questo andamento verso il basso sta diciamo comprimendo vedete comprimendo verso l'alto questo mi dà manforte ad andare proprio ad avvalorare l'ipotesi del 78% perché rotto poi il canale mi aspetto poi un ritest nell'area di questa trend line per proprio seguire verso l'alto questo è quello che io ho pensato riguardo il canadese ovviamente sempre se il dollaro va un po' ad indebolirsi nei prossimi mesi se no comunque un proseguimento verso il basso e verso il 141 tra il 127 e il 141% è molto probabile andiamo anche a vedere vi voglio far vedere ovviamente senza indugi l'euro dollaro che sta andando dove ce l'aspettavamo ovviamente questo era l'ABCD pattern che ci aspettavamo proprio in quella zona di prezzo vedete tra il 127 e il 141% che ci eravamo posti come zona target a ribasso questa praticamente ricalcando gli 1,11 eccola qui quindi questa zona qui e infatti il prezzo vedete che sta è arrivato proprio a ricalcare il 127% quindi adesso io mi potrei aspettare anche un ritorno verso l'alto perché questo potrebbe anche essere un cipher pattern ok quindi dobbiamo vedere un attimo adesso cosa ci prospetta nelle prossime ore questo anche perché abbiamo sempre questa resistenza sugli 1,11 e 9,41 molto forte comunque io potrei anche visto anche guardate questa questa formazione a livello candlestick molto importante per poter poi fare potrebbe anche essere un ritesta andare a ritestare ancora il 141% e potrebbe ancora essere ovviamente un cipher pattern per poi tornare a salire intorno agli 1,13 e 500 quindi questo potrebbe anche essere un buon movimento del prezzo e una buona prospettiva di prezzo per il futuro voglio finire questa descrizione della settimana con la sterlina con il dollaro che ovviamente è andata che sta andando verso il nostro target di medio periodo qui intorno agli 1,27 me l'aspetto proprio qui su questo prezzo per poi risalire almeno tra gli 1,30 e gli 1,31 come zona target è proprio questa che poi ricalca un po' vedete questa zona no? appunto target che c'eravamo posti di lungo periodo quindi questo è quello che io mi aspetto quindi anche il riteste sugli 1,31 finisco un pochino a farvi vedere dov'è il Fuzzemib perché poi lo vedremo meglio domani per quanto riguarda appunto l'italiano vedete che sta facendo un testa e spalle e potrebbe veramente alla rottura di questa dei 21.700 andare a prendere appunto questa zona qui dei 20.400 che è la zona in cui vedete ha ritestato i 22.000 io me l'aspetto comunque un ritorno almeno tra i 20.000 quindi tra i 21.000 e i 20.500 questa è la zona che io mi aspetto di ritest del Fuzzemib bene voglio terminare un pochettino con il DAX solo per farvi vedere che ha raggiunto il nostro target sui 12.400 ora mi aspetto ovviamente il ritracciamento che potrebbe avvenire e ritestare in prima battuta proprio questi 12.000 dollari scusate 12.000 punti che ci eravamo posti come zona di forte confluenza tecnica statica e quindi supporto statico e di confluenza su questo sui sui 23% scusate sul 50% di Fibonacci bene con questo è tutto io vi ringrazio moltissimo di essere stati qui con me anche oggi ovviamente vi do appuntamento come al solito durante la settimana per i vari webinar andate anzi sulla pagina webinar troverete direttamente sulla pagina webinar tutto quello che riguarda appunto gli eventi in programmazione nel corso della settimana ovviamente questo è vedete qui ce l'avete un po' scritto tutti quanti a seconda dell'orario e ovviamente vi do appuntamento come al solito con Cristian Ciuffa il canale YouTube l'iscrizione vi ricordo l'iscrizione al canale Telegram proprio qui sotto l'ho messo in descrizione sia del canale Telegram delle commodity scusate del mercato in generale che ci sono anche le commodities le materie prime quindi gli indici le valute eccetera e poi quello dedicato alle criptovalute bene vi ringrazio molto di essere stati qui con me vi do appuntamento quindi come ogni giorno per tutta la settimana nel mio canale alle 10.45 per chi interessa le criptovalute nel canale Trend Online con le criptovalute non mi resta che darvi buon trading a tutti da Cristian Ciuffa ciao